Mi trovo a Taranto in via Cesare Battisti all'altezza di via Cocco per capirci un po' prima di Cesarino e così via andando verso destra andiamo verso San Giorgio a sinistra verso la città. Vedete qui abbiamo in via Padre Cocco i lampioni della pubblica illuminazione belli grossi presenti ma tristemente spenti e idem vedete su quest'altro filare di lampioni su via Cesare Battisti che sono anch'essi spenti. Allora io dico se ci sono questi pali, questi lampioni, evidentemente c'è un problema all'impianto perché credo che l'impianto di via Cocco e di via Cesare Battisti sia unico sia un unicum. Allora occorre ripristinare la luce, ripristinare l'impianto affinché i pali, voi di via Cesare Battisti, voi di via Cocco siano illuminati. È l'appello che rivolgo all'amministrazione Melucci, è l'appello che rivolgo all'assessore ai lavori pubblici Mimmo Ciraci. Mettiamoci di buona lena, mettiamoci di impegno e per favore risolviamo questo problema perché uno posso capire se il palo non c'è eppure vanno messi laddove non ci sono, ma dove ci sono dobbiamo intensificare gli sforzi. Anche qui nodo al fazzoletto perché voglio a gran voce dire, anzi non io, ma tutti i cittadini, soprattutto quelli che ci abitano, che transitano, Lux Fiat sia fatta luce. Grazie.